Per cui molti si aspettano appunto che per prima cosa Misty possa essere aggiunta magari insieme ad un'altra crew O Misty come primo personaggio appunto perché è il più famoso su Blackout come personaggio giocabile Sicuramente andrò un pochino a rigiocare Blackout anche perché sono stati aggiunti altri personaggi e altre skin In particolare Misty, ovviamente Misty è quella di cui si parla di più perché personaggio preferito e tutti si ricordano Per ovvi motivi che non sto qua a specificare Grazie a tutti Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo.